Rieccoci con la seconda parte del sindaco risponde come avevamo anticipato prima dello stacco pubblicitario al rientro avremmo parlato di tram perché vice sindaco proseguono i lavori sia per la seconda che per la terza linea insomma con differenze insomma in base alla tipologia di cantiere però stanno fioccando per così dire qua e là i cantieri l'intervento forse principale uno tra i principali in queste settimane è quello di viagozzi perché stiamo parlando di una strada comunque che rappresenta una porta d'accesso alla città per così dire quindi vediamo vice sindaco nel servizio a che punto sono i lavori e cosa sta succedendo in quella zona della città e al rientro ne discutiamo insieme vediamo nuovi cantieri per il tram e nuovi disagi di viabilità per i padovani costretti a modificare gli abituali tragitti per il tempo dei lavori per realizzare la nuova linea che collegherà la stazione a volta barozzo sono iniziati i lavori lungo via gozzi dove si sta procedendo allo spostamento della condotta del gas metano e alla realizzazione delle vie guidate su cui poggeranno le rotaie è stata chiusa via gozzi collegamento tra le vie tomaseo e quindi la zona stazione e via trieste che porta agli ospedali al momento come vi mostriamo con le nostre telecamere è consentito solo il passaggio alle auto che in uscita da via scrovegni e da via rezzonico si mettono nella cittata via gozzi per poi svoltare in via tomaseo a destra verso il punale la fiera o a sinistra verso l'omonimo parcheggio via gozzi resterà chiusa per circa tre mesi intanto per rendere più scorrevole l'incrocio ed evitare il formarsi di code sono stati meglio tarati i semafori non si escludono ulteriori accorgimenti nei prossimi giorni a seconda delle esigenze quanto è impattante vice sindaco un cantiere di questo tipo anche nella viabilità insomma di quella che ha tutti gli effetti una porta d'accesso al centro della città beh molto molto impattante infatti siamo con gli occhi puntati ma è impattante anche una situazione generale in cui sono tanti i lavori che che sono iniziati un po' l'effetto dei grandi investimenti di PNRR alle volte ci si lamenta del fatto che la città non aggancia finanziamenti esterni noi con il PNRR siamo stati tra i campioni come dire in italia di accaparramento di risorse tutto questo si sta traducendo in tante opere pubbliche e questo siccome il PNRR non è diluito nei dieci anni ma l'Europa ci impone una scadenza come dire piuttosto serrata noi oggi iniziamo a fare i conti con l'impegno di tante strade interessate da realizzazione delle linee di tram sistemazioni di ponti viadotti manutenzioni rifacimenti di questo tipo realizzazioni di tante riqualificazioni di sedi stradali che vuol dire rifacimento marciapiedi rifacimento piste ciclabili rifacimento sedi stradali illuminazione nuove alberature stiamo realizzando anche nuovi parchi c'è una quantità di cose importanti per la città noi ne usciremo migliori da questa da questa ondata diciamo di di lavori e di progetti che cadono sul territorio tra l'altro con fondi PNRR che non ricadono sulla fiscalità del bilancio del comune di Padova quindi bene abbiamo fatto ad approfittare ne usciremo migliori perché ne usciremo con una città con più servizi con strade più adeguate con ponti in sicurezza con scuole palestre rinnovate e in questo periodo però scontiamo come dire l'effetto sui cantieri quindi io ringrazio tutti quelli che ci segnalano anche a noi ci stanno segnalando veramente moltissimi cittadini qualcuno anche si arrabbia eh vice sindaco bisogna dirlo eh lo so che si arrabbiano eh ma è inevitabile perché poi quando sei in strada e devi eh arrivare ad un appuntamento eh è ovvio che uno pensa solo a quello e quindi il pensiero è ma il non si poteva fare in un altro momento eh in un altro momento no perché evidentemente no però quanto vi preoccupa tutto questo in previsione di un periodo in cui da sempre il traffico in città aumenta ancora di più che è il periodo delle festività natalizze poi entreremo dopo sul tema del Natale però affrontiamolo da questo punto di vista quanto vi preoccupa? molto infatti siamo con gli occhi puntati prima il servizio giustamente diceva che eh possiamo anche intervenire per migliorare funziona sempre così un cantiere poi va presidiato soprattutto nei primi giorni per capire come poi migliorare la viabilità proprio ieri ci siamo incontrati con le associazioni di categoria delle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e degli operatori eh che oggi in questo periodo sono interessati al Natale per capire anche come da una parte alleviare nei punti più caldi ma dall'altro anche comunicare meglio le alternative quali strade le associazioni di categoria da una parte sono consapevoli che i lavori che stiamo facendo eh porteranno a dei vantaggi importanti per eh per la città il tram stesso toglierà traffico quindi subiamo eh dei disagi di cantiere per eh eh però poi avere un'opera che eh ci aiuta dal punto di vista della viabilità del del traffico oltre che del eh dell'ambiente così come mi dispiace per esempio che il ponte paleocapa eh sia chiuso per un anno per per lavori ma non manutentarlo vorrebbe dire chiuderlo perché poi diventa inagibile però magari i disagi sono un po' minori perché stiamo parlando di una zona della città totalmente differente e quindi magari insomma i disagi sono un po' minori. Il tema è che poi un'automobilista magari passa per via Gozzi eh a una certa ora. E vede il cantiere. Passa il ponte paleoca e poi vede il cantiere. Perché poi non è che la nostra è una metropoli no? Se tu attraversi il centro da nord a sud magari passi per più punti dove ci sono diversi diversi cantieri. Noi di questo siamo consapevoli e stiamo impiegando grandi energie per eh ottimizzare al meglio la cosa. Ma c'è bisogno però di una consapevolezza collettiva che i disagi di oggi sono come quando sistemiamo casa e abbiamo fatto i lavori di sistemazione, di ristrutturazione, di cambio. Viviamo un periodo di disagio per avere una casa più comoda, più adatta alle nostre eh esigenze. E questo stiamo facendo nella nella città. Quindi eh la consapevolezza che questi lavori servono non per riparare qualcosa che si è rotto ma è un investimento per una città che si sta dotando di eh nuove nuove infrastrutture. Il prossimo non so se ce lo può già anticipare se già al quadro un po' più chiaro il prossimo cantiere di una certa rilevanza quale sarà a Padova? Fatalità. Ho in tasca ancora il gli appunti della della riunione che io scrivo ancora tanto a mano su sulla carta. L'ultima riunione dove facciamo il punto eh del della situazione. Il tram sta interessando eh eh aree importanti della città perché abbiamo lavori piovese vicino al ponte di Volta Barozzo ed è chiuso l'argine Sabionari perché si sta installando il nuovo ponte che ma eh agli ospedali a Ponte di Brenta in via Dante in via Gozzi e via Valeri sono quelli che abbiamo visto sul servizio Corso Milano stiamo ultimando sono tutti punti nevralgici perché poi il tram passa su punti importanti della eh della città e oltre a questi poi ci sono i normali interventi di manutenzione che noi abbiamo bloccato in questo periodo natalizio in modo tale che quelli che possiamo come dire rimandarli li teniamo mentre il tram deve correre sui tempi PNRR. Quindi i cantieri per il tram non si fermeranno a Natale? No. Hanno una organizzazione che tiene conto dei periodi di maggior rafflusso di meno rafflusso però a Natale viviamo un periodo molto intenso. Prima del 25 magari. Prima del 25. Poi invece i giorni dopo sono ottimi per lavorare perché eh il traffico invece è eh ogni anno molto scarico e quindi metteremo lì anche i lavori più impattanti. Un cantiera non è una cosa che si apre e si chiude come una porta. Cioè è sempre da... Diciamo che per i lavoratori dell'azienda che hanno vinto gli appalti sarà festività di lavoro. Eh sì beh eh per forza. Infatti prevederemo anche come dire cioè sono previsti compensi anche di un certo tipo perché lavorano anche in orari. Pensiamo al ponte di Volta Barozzo quando abbiamo messo eh fatto gli ultimi interventi di manutenzione siamo intervenuti da venerdì sera a domenica sera nelle 24 ore. È inevitabile. Il tram domenica, il cantieri del tram stava lavorando anche di domenica. Noi ecco su questo ci tengo a far passare anche un messaggio come dire di piena consapevolezza dell'impatto che si sta creando che va vissuto come un investimento per avere infrastruttura una città più eh più attrezzata. Abbiamo cantieri a Ponte Corvo, stiamo rifacendo la piazza. Questo è il momento di maggior disagio perché è chiusa la viabilità proprio della porta ma entro l'8 di dicembre riapriamo quel varco. Il paleocapa che è chiuso. Anche perché poi porta al Santo, quello è una porta d'ingresso verso il Santo abbastanza importante. Esatto. Il paleocapa che è chiuso, quello è un ponte del 1800 che stiamo restaurando, un ponte che chi passava notava i buchi e gli ammaloramenti sull'infrastruttura che altrimenti l'avremmo dovuto chiudere per inagibilità. Non vogliamo mai arrivare a questa situazione. Poi abbiamo tutti le riqualificazioni stradali, quindi rifacimento di marciapiedi nuovi che sono fondamentali, quanti marciapiedi ci chiedono di sistemare, quanto non è mai abbastanza o anche spazio per ciclabile. Quindi porta San Giovanni, abbiamo in via Giordano Bruno, in via Vicenza, in via Gattamelata, in via Riosto e in via Sarpi. Diciamo che questo forse è anche un periodo in cui si concentrano tutta una serie di cantieri in un numero tale che di solito magari non succede, credo. A memoria non ricordo di così tanto. I bilanci normali non ti danno tutte queste risorse di solito, anzi di solito, mai, non abbiamo mai. Avendo approfittato dei finanziamenti PNRR siamo stati in grado di mettere in campo progettazioni che altrimenti non avremmo retto con i nostri soldi. Abbiamo preso i soldi dell'Europa per migliorare la nostra città e in questo momento stiamo lavorando. Ci prendiamo un'altra breve pausa, torniamo più tardi, il Vice Sindaco subito dopo un breve stacco con l'ultima parte del Sindaco risponde e cominceremo un po' ad entrare in tema Natale da diversi punti di vista, dal punto di vista degli eventi ma dal punto di vista anche di come la città recepirà insomma tutto ciò che si svolgerà in questo periodo natalizzo. Allora un'altra brevissima pausa, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Grazie a tutti.